Forzano la sara cinesca di un garage sulla via parallela al corso, percorrono il garage fino al pozzo luce, posizionano una scala ed arrampicandosi raggiungono la finestra del bagno del centro scommesse per entrare e fare razzia di denaro in cassa, oltre 2000 euro, monete nei videopoker, televisori e monitor. E quanto è successo questa notte intorno alle 2.15 all'interno del centro scommesse Eurobet su Corso Roma a Brindisi, ad accorgersi del furto i dipendenti che questa mattina hanno aperto il locale ed hanno trovato le casse forzate ed i monitor smontati dagli alloggi e posizionati per terra, mentre nel bagno era stato abbandonato uno solo dei televisori, probabilmente lasciato a causa di una fuga immediata. Sul fatto indagano i carabinieri. Da una prima ricostruzione pare che i malviventi avessero studiato il colpo nei minimi particolari, conoscendo il collegamento tra il bagno del centro scommesse ed il pozzo luce. Infatti i ladri hanno forzato la sara cinesca del garage che affaccia su via Saponea, parallela proprio a Corso Roma, che è l'unico collegamento con il pozzo luce sul quale affacciano appunto diverse finestre, tra cui quella del bagno dell'Eurobet. Raggiunto il pozzo luce ed aiutandosi con una scala, si sono arrampicati fino alla finestra incriminata e l'hanno forzata introducendosi nel centro scommesse. Dapprima vi si sono fiondati sulle casse, sui video poker, poi hanno smontato tutti i monitor e le tv che visualizzano le giocate e le partite nel centro scommesse, pensando di portarle via con loro. A quel punto, poi, poco prima delle tre, deve essere scattato l'allarme collegato con il centro di sorveglianza Sveviapol, che ha mandato sul posto una guardia. A rumore dell'auto, probabilmente i ladri hanno lasciato tv e monitor e si sono dati alla fuga lì da dove erano entrati con il resto del bottino, oltre 2.000 euro in contanti e le monete dei video poker forzati. Il dipendente della Sveviapol, non avendo notato movimenti sospetti, ha così lasciato, come di regola in questa occasione, un biglietto relativo al suo passaggio alle ore 3 per allarme scattato ed è andato via senza avvisare i titolari che hanno avuto l'amara sorpresa solo all'apertura del negozio. Colpo non del tutto andato a segno, sul quale indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle tre camere di videosorveglianza che avrebbero ripreso tutto e che saranno di aiuto nelle indagini che restano aperte a 360 gradi.